Musica Mercoledì 10 luglio la città di Fano e tutta la diocesi in festa per San Paterniano alle 10.30 la solenne messa pontificale presieduta dal Vescovo Armando Le parrocchie di San Paolo Apostolo al Vallato e di Fenile in festa Siate testimoni pensose alla festa dei Santi Patroni della parrocchia di Fenile la tavola rotonda con lo scrittore Daniele Garota Gli ultimi giorni di Giacomo Leopardi alla Corte Malatestiano una lettura spettacolo dedicata al poeta marchigiano Palazzo Cassia San Costanzo presentato al volume di oltre 600 pagine e redato da Paolo Vitali Ben trovati a questa edizione del TG Web mercoledì 10 luglio è in programma la festa di San Paterniano patrono della città e della diocesi di Fano mercoledì 10 luglio proprio festa del patrono alle ore 10.30 è in programma la solenne messa pontificale presieduta dal Vescovo Armando nei tre giorni che precederanno la festa domenica 7 lunedì 8 martedì 9 luglio alle ore 18.30 il triduo presieduto sempre dal Vescovo Armando nei giorni della festa ricordiamo che sarà allestito un mercatino di beneficenza curato dall'ordine francescano secolare di San Paterniano in favore delle missioni dei cappuccini e parliamo sempre di feste questa volta però ci spostiamo al Vallato e al Fenile lo facciamo con il servizio di Matteo Itri in occasione della solennità dei primi martiri della chiesa di Roma due parrocchie della nostra diocesi quella del Vallato e di Fenile di Fano hanno festeggiato i loro patroni nel tardo pomeriggio di sabato 29 giugno infatti il Vescovo Armando Trasarti ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato di Fano una ricorrenza che porta tutti a riflettere sulle figure di Pietro e Paolo due colonne di riferimento del Magistero come l'ha definita il Vescovo una completamente diversa dall'altra che hanno saputo far dialogare istituzione e carisma entrambi al termine del loro percorso hanno conservato la passione per Cristo quante volte invece noi finiamo il nostro cammino fuggendo dalla chiesa o peggio smettendo di educare la fede simili provocazioni sono state fornite anche il giorno seguente domenica 30 giugno quando la comunità parrocchiale di Fenile, Carignano e Sant'Andrea in Villis ha festeggiato insieme i tre santi martiri patroni Sant'Andrea, San Pietro e San Paolo commentando le letture del giorno il Vescovo Armando che ha presieduto la Santa Messa Vespertina ha illustrato come grazie a Gesù il Calvario diventa un percorso di amore e noi partecipiamo alle celebrazioni per obbedienza o perché sentiamo il richiamo dell'amore di Dio? ha chiesto il Vescovo quando usciamo poi siamo trasfigurati o più tristi di come siamo entrati? nella pericopa evangelica si scopre il lato esigente di Gesù ma che però non diventa intransigente di fronte alle mancanze una rassicurazione questa che però non coincide con la mediocrità che spesso riserviamo al nostro vivere da credenti dunque l'invito ad essere testimoni luminosi del risorto perché spesso raccontiamo una fede senza gioia mentre la proposta di Cristo è tutt'altra rimaniamo sulla festa parrocchiale a Fenile perché venerdì 28 giugno nell'ambito proprio dei festeggiamenti dei santi patroni Pietro e Andrea si è tenuto un incontro molto partecipato con lo scrittore Daniele Garota la parrocchia di Fenile in occasione della festa dei santi patroni Pietro e Andrea ha organizzato venerdì 28 giugno una serata di dialogo e confronto con Daniele Garota scrittore, testimone della fede, padre di famiglia e socio fondatore della cooperativa Alcenero una profonda riflessione su Ponzio Pilato ha aperto l'incontro Pilato, un uomo che viene ricordato anche nel credo che recitiamo ogni domenica ci ricorda come la fede, la nostra fede, si sia incarnata e si è entrata nella storia il credente ha detto Garota deve tenere in una mano la Bibbia e nell'altra il giornale dobbiamo incarnarci nella storia, saper leggere i fatti alla luce della parola di Dio oggi corriamo il rischio di non conoscere la Bibbia, di non interrogarci su quanto accade attorno a noi e di far scomparire la fede essa è consapevolezza della storia e di ciò che accade e allo stesso tempo è impegno nel pensare per poter poi vivere e comunicare la buona notizia a tutti in questa società sembra che si sia perso il senso del peccato ha perseguito Garota, non si è più capaci di percepire il male che viene dal di dentro dal nostro essere isolati e non fare ciò che è nostro dovere fare o non dire ciò che è nostro dovere dire siate testimoni pensosi, ha detto infine Daniele alle tante famiglie presenti all'incontro poiché il pensiero ci apre il cuore e Dio è sensibile al cuore e non alla ragione l'incontro si è concluso con un breve saluto del paroco Don Giuseppe Tintori che nel ringraziare tutti per la numerosa partecipazione ha espresso una profonda speranza che la comunità possa continuare il suo cammino verso Dio facendo crescere la fede attraverso l'ascolto e la testimonianza di vita E cambiamo argomento, venerdì 5 luglio alle ore 21.30 la Corte Malatestiana è in programma la lettura spettacolo scritta e diretta e interpretata da Carlo Simoni sugli ultimi giorni di Giacomo Leopardi vediamo di che cosa si tratta Gli ultimi giorni di Giacomo Leopardi è la lettura spettacolo in programma venerdì 5 luglio alle ore 21.30 la Corte Malatestiana scritta, diretta e interpretata dal fanese Carlo Simoni che vuole regalare alla sua città natale una suggestiva interpretazione dei testi delle storie di vita del grande poeta marchigiano lo spettacolo organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Fano in collaborazione con il teatro La Bugia sarà proposto con un biglietto simbolico di 5 euro a presentarlo alla stampa sono intervenuti l'assessore alla cultura Maria Antonia Cucuzza la quale ha sottolineato l'importanza culturale di questa iniziativa per la nostra città soprattutto per la presenza di un concittadino di fama nazionale lo stesso Carlo Simoni e l'attrice Maria Flora Gianmarioli coproduttrice della serata che hanno illustrato in sintesi lo spettacolo composto prevalentemente dei testi leopardiani tratti dai canti, dallo zibaldone dalle operette morali ricco di presenze musicali di Rossini, Verdi, Wagner, Mozart, Chopin, Beethoven Bach, Gounod ed Endel Palazzo Cassi a San Costanzo il titolo del volume è redato da Paolo Vitali presentato venerdì 28 giugno nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano i particolari nel prossimo servizio venerdì 28 giugno è stato presentato il prezioso tomo di oltre 600 pagine dal titolo Palazzo Cassi a San Costanzo redato dal dottor Paolo Vitali ed edito dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano proprio nella sala di rappresentanza di quest'ultima oltre all'autore sono intervenuti il sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli il presidente della fondazione Fabio Tombari lo storico Franco Battistelli ed il presidente del centro studi per Ticari Alberto Berardi l'uscita di questo libro coincide con il termine dei lavori di ristrutturazione del suddetto palazzo consegnato con una nuova funzionalità all'amministrazione cittadina proprio il 26 maggio scorso dopo aver ringraziato la fondazione di cui egli stesso è consigliere generale l'autore Paolo Vitali ha evidenziato più volte la grande importanza di Palazzo Cassi questo non fu uno dei tanti palazzi nobiliari ha detto lo scrittore ma una delle poche residenze culturali del territorio in cui si sono alternate le presenze dei nomi più prestigiosi quale anche quelli di Gioacchino Rossini e dello stesso Foscolo Per oggi è tutto, vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione torna venerdì 12 luglio grazie per averci seguito e arrivederci